Siamo i ragazzi che sono... Tutti, ad esempio, anche i più vicini hanno solamente diritto a correre, nella migliore dei modi, anche gli usciti. Facciamo svolte, naturalmente, anche quello... Sla riga drittura! Ma guarda, guarda! Ecco l'autocornale! Ci vediamo a stare là, ci sono circa circa 100 metri, più o meno, al trattato. Dobbiamo poi... Facciamo giù in strada, sta arrivando la limite listica. E' un bel successo di questo ragazzo, che poi, se diremo con il suo nome, ci lo faremo dare al mio ingresso. Questa è una prova, ecco lei, che sta arrivando una corsa salutaria, ed è arrivato il primo... ...mintelettico. Adesso, papà, per questo... ...ma presto... ...secondo... ...della vendine della... ...della viola... ...e poi Greta non libera, eccola qua, bravissima Greta, assolutamente... ...bottissima... ...sorso oggi... ...ve lo sapete che è? ...apcia l'attività... ... fiancini electro... ...togli il pettorale... ...allora vittoria del suo padre... ...vattoronessi da diritti a... ...all'attività... ...arete... ...ovarli per tutti i loro... ...di tutta gara, come giù degli altri, Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai, che sono lì, dai. E' un'altra cosa. E' un figlio. E' un fratello. Dai. Dai, bravo, forza. Bravo. Dai, forza. Dai, morrino, bravi. Bravo. Dai, bravo. Dai, bravi. Dai, bravi. Dai, bravo. Dai, bravo. Dai, bravo. Dai, bravo. Dai. Dai. Grazie.